Innanzitutto mi piace pensare che si stanno chiudendo e si chiuderà la porta santa, ma si aprono tante altre porte del cuore, dei nostri cuori. Veramente quest'anno penso abbia lasciato nel cammino di ciascuno di noi un arricchimento e un passo avanti nella santità della vita di ciascuno. La misericordia ricorre, come sappiamo, nella parola di Dio tantissime volte, lo leggiamo nella Bibbia come nel Vangelo, quindi è una parola che risuona, se vogliamo, costantemente. Mi piace pensare che siamo tutti dei vasi di misericordia e quest'anno ci ha dato la possibilità di riempirci di quello che è veramente l'amore di Dio. La misericordia è nella vita di ogni giorno se la sappiamo testimoniare e mettere in pratica. Un abbraccio verso chi c'è prossimo e una parola di conforto a chi è nella difficoltà e essere appunto lo specchio di Dio, riflesso di Dio nella vita di ogni giorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.